Ciao a tutti! Noi siamo Yasmin e Marta e oggi vi presentiamo il fabbricante di lacrime di Erindom. Questa è la Siria Lulica, una ragazza di 17 anni che vive in un orfanotrofio. Quando per lei oramai le speranze di avere una famiglia sembrano perse, Anna e Norma Milligan decino di adottarla. Le sembra di vivere in una favola, ma la gioia finisce ben presto, quando la ragazza scopre che insieme a lei porteranno via anche Riegel. E il fabbricante di lacrime entrerà nella sua vita. Eravamo all'inizio e alla fine di un'unica storia, eterne e indiscendibili. Lui la stella e io il cielo, insieme costellazioni da brividi. Se vi è piaciuto, andate ad ascoltare il nostro podcast su Spotify e iscrivetevi al canale. Ciao!